Ha toccato oggi l'Abruzzo il tour dell'esponente del Partito Democratico e attuale presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Uno degli sfidanti del segretario uscente, Matteo Renzi, ha illustrato idee e programmi per un PD che torni ad essere vicino alla gente. Al suo fianco questa mattina a Pescara, fra gli altri il parlamentare abruzzese Antonio Castricone, il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani ed il consigliere comunale di Chieti Luigi Febo. Voglio riportare nel Partito Democratico i tanti elettori e militanti che abbiamo allontanato. Quindi la mia mozione è un richiamo a tutti quelli che sono andati a votare altri partiti, soprattutto il Movimento 5 Stelle, ma che hanno anche smesso di andare a votare. Sono tantissimi, sono di più di quelli che sono rimasti. E quindi la mia mozione serve soprattutto a questo. Poi a riportare il tema del lavoro, della scuola, di quelli che senza il lavoro e senza la scuola non vanno da nessuna parte, sono gli ultimi, sono quelli che non contano nulla, che dovrebbero essere l'oggetto principale della sinistra. Li voglio riportare al centro della nostra analisi politica e li vogliamo difendere, vogliamo essere le persone che li aiutano a vivere meglio. E poi l'ambiente. Vorrei che la mia esperienza di amministratore che tutela l'ambiente sia l'esperienza di tutta l'Italia. L'Italia è il posto della bellezza che va tutelato anche attraverso politiche ambientali che siano le più moderne possibili. E poi sono qui in Abruzzo in modo particolare perché questa è una terra alla quale io ho sempre dato tantissima attenzione negli anni, non solo adesso che sono candidato e quindi in tanti momenti di difficoltà del PD dell'Abruzzo sono venuto qui quando Pescara era governata dalla destra, quando la regione era governata dalla destra. Ho sempre dato una mano a tutti i miei amici, a tutti i miei compagni, le mie compagne di questa terra meravigliosa. Mi auguro che la mia mozione renda chiaro a tutti che nella vita si possono anche fare cose controcorrente, anche cose apparentemente difficili, ma che poi dopo le difficoltà, se uno ha scelto la strada giusta, si può aprire un futuro importante e radioso. Quindi la mia mozione vuole aprire al PD e all'Italia un futuro di libertà, un futuro di cura di chi ha più bisogno di essere aiutato e di chi in questo momento evidentemente viene trascurato proprio dal partito più importante della sinistra italiana. Datemi una mano perché tutti possono venire a votare alle primarie del Partito Democratico, tutti coloro che voterebbero il PD se io ne fossi il segretario, possono votare per il PD, conversioni comprese.